In chiusura di seduta dell'ultimo consiglio comunale di Fano si è accesa una discussione martedì scorso sulla richiesta avanzata dal Movimento a 5 Stelle di istituire una commissione speciale di indagine per valutare la situazione urbanistica e ambientale della ditta Profiglas e dell'intera zona di Bellocchi in cui essa opera. Richiesta sostenuta anche dal consigliere comunale Giancarlo Danna che ha trovato subito contrario il Partito Democratico, noi città e noi giovani. Sinistra Unita invece ha deciso di astenersi. Il motivo della bocciatura è stato motivato ieri con queste parole dal presidente Renato Claudio Minardi. Perché i consiglieri comunali hanno tutte le possibilità e tutti gli strumenti per poter verificare con l'accesso agli atti ogni atto, ogni documento, ogni delibera, ogni determinazione che è stata adottata o fatta da parte sia della Giunta che del Consiglio che anche da parte dei dirigenti del Comune di Fano. Per questo durante l'approvazione del codice etico che stabilisce per chi lo sottoscrive di vieti nell'accettare regali e regole sul conflitto di interesse e sulla corruzione, Danna i consiglieri di Progetto Fano e i grillini hanno abbandonato l'aula. Una protesta, la loro non contro il codice che come assicura Ruggeri sottoscriveranno, ma per il rifiuto della maggioranza di istituire la commissione d'inchiesta. Assolutamente lo sottoscriveremo, visto che una volta passati in Consiglio Comunale il codice etico ha bisogno di una sottoscrizione da parte dei singoli consiglieri. Tra l'altro vorrei anche sottolineare che noi 5 Stelle al momento della candidatura già sottoscriviamo un codice etico che è molto più stringente rispetto a questo del Consiglio Comunale. Infatti abbiamo visto che ci sono dei punti che mancano e che secondo noi sono molto importanti e il fatto che non ci siano è significativo. Innanzitutto l'amministratore si impegna ad evitare anche il cumulo dei mandati politici e degli incarichi pubblici. L'amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere riservato, quindi c'è un implicito riferimento alla massoneria. L'amministratore deve astenersi da richiedere o da ricevere finanziamenti da parte dei concessionari o gestori di pubblici servizi. È rimasto semplicemente nel codice etico del Comune di Fano solo il fatto che non si possono prendere regalie ma non finanziamenti. Quindi la mancanza di questi tre punti secondo noi è grave, però comunque lo sottoscriveremo in pieno.